Ha ripreso gran parte della sua forma originaria la mano del colosso bronzeo di Costantino dei Musei Capitolini. È arrivato infatti a Roma da Louvre il frammento del dito in bronzo, coincidente con le due falangi superiori di un indice. Una ricomposizione, sottolineano dal Campidoglio, resa possibile grazie alla generosa disponibilità delle presidente direttore nel Museo Parigino Jean-Luc Martinez. Ora la mano ricomposta è esposta nelle sedra delle Marco Aurelio insieme agli altri bronzi già in laterano donati al popolo romano da Papa Sisto IV nel 1471. Si tratta, secondo quanto si è appreso, di un prestito di lungo periodo pluriennale, un evento culturale di grande caratura a frutto della collaborazione tra Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina e Beni Culturali e il Museo del Louvre che avviene in occasione dei 550 anni della donazione sistina, vero e proprio atto di fondazione delle collezioni capitoline, ma anche a quasi 500 anni dalla separazione delle parti della mano ora ricomposte. E credo che sia un bellissimo viatico per riaprire musei, un modo per riaccogliere cittadini e turisti che potranno finalmente vedere l'opera ricomposta.